Amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto calcio pugilato che è nuoto in primo piano nella pagina sportiva del TG Noi. La Lucchese in attesa di eventuali novità dal mercato di gennaio che chiuderà giovedì sera alle 20 facciamo il punto sul campionato dei rossoneri infarcito nelle prime 23 giornate da ben 10 sconfitte. Dieci ma senza lode dopo 23 giornate di campionato la Lucchese ha infatti incamerato ben 10 sconfitte che detto così non sono poche. Analizzare poi come sono arrivate spetta al cronista ma anche ad una valutazione tecnico-tattica e astrale che se ne può fare. La prima incamerata da Tiritiello e compagni è stata secondo noi il classico sliding doors stagionale. Alla settima una Lucchese baldanzosa e sicura si presenta al Sanna di Sassari, traversa di Guccher e gioco dominato al cospetto dell'allora capolista Torres. Poi però la partita finisce 2-0 per i Sardi e da lì la sicurezza diventa dubbio, incertezza. Da allora in poi la squadra di Gorgone non ha più trovato il giusto equilibrio tecnico e nella striscia dei risultati la tendenza a perdere si acuita dalla quattordicesima in poi. Al Manuzzi di Cesena i rossoneri giocano anche alla pari con la squadra che probabilmente vincerà il campionato ma poi al primo scricchiolio affondano 0-3. Succederà in altre occasioni, vedi Perugia. Talvolta ci si è messa anche la sfortuna con pali e traverse oppure la colpevolezza di non aver sfruttato qualche ghiotto occasione. Fatto sta che dalla diciottesima 0-1 a Carrara, punita da un guizzo di Simeri, la Pantera ha graffiato poco e raccolto ancora meno. Nelle ultime sei giornate sono arrivate quattro sconfitte, oltre a quella del Curi di Perugia, anche le battute d'arresto con Sestri Levante, in casa, grave, e la più recente domenica scorsa al Gubbio. Al Barbetti il solito cliché, Lucchese manovriere piacevole, ma i punti se li ha portati a casa Piero Braglia. Domenica arriva la Spal, che è messa anche peggio, per la serie Morstua Vitamea, ma anche andare avanti così è davvero dura e non si può. Gorgone Docet La Lucchese femminile vince e convince la formazione juniore Sander 19 di Stefano Cordeschi, che sul sintetico di Saltocchio, come vediamo, ha battuto un buon affrico per 3-0. Sugli scudi Sara Medoria, autrice di una doppietta, è a chiudere il gol della solita Ilaria Orsi, ma non è stata una partita facile. Cade invece, sotto i colpi del Livorno, l'Under 17 di Mr. Cristofani, che cede il passo alle Labroniche, soprattutto a causa di errori individuali. Peccato per il risultato finale, un 2-5, forse troppo penalizzante per le Lucchesi, che però non va ad intaccare quanto di buono fatto finora. Scendiamo in Serie D per una notizia di mercato. Recenti infortuni hanno indotto il Givi Borgo a tornare sul mercato. Il giovane direttore sportivo Sascha Remaschi ha perfezionato in queste ore l'ingaggio del difensore esterno Flavio Romano, classe 2002, che sarà a disposizione di Nicolelli, già domenica prossima nella trasferta di Livorno. Nella passata stagione, Romano, che è cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha vinto il play-off di Serie D con la maglia del Trapani. Siamo al Pugilato, ospitata dalla Pugilistica Lucchese, la prima serie, il primo allenamento collegiale toscano del 2024. Oltre 70 giovani pugili si sono ritrovati nella sede della Pugilistica Lucchese per il primo allenamento collegiale maschile toscano 2024, riservato alle categorie allievi Schoolboy Junior e Youth. Una grande partecipazione ed un'importante occasione di crescita per i ragazzi, voluta proprio in vista dei prossimi impegni a livello nazionale. Tutti gli atleti che hanno preso parte al collegiale hanno così potuto allenarsi e mettersi alla prova per due ore e mezza con le altre promesse del Pugilato Toscano, sotto la guida del responsabile regionale del settore giovanile di Pugilato Limpionico, il maestro Giulio Monselesan. La scelta del Comitato regionale toscano di svolgere il primo allenamento a Lucca non è però legata alla provenienza dei responsabili del settore. Determinante è infatti la stessa sede della Pugilistica Lucchese, spaziosa e funzionale. Tra le società più numerose ovviamente quella di casa, con ben 11 pugili. Non è infatti un mistero l'importanza che la Pugilistica Lucchese riserva da sempre i propri pugili fin dal settore dell'avviamento al Pugilato, 5-12 anni. E per avere la reale dimensione della spinta che dà il settore giovanile all'attività della società nostrana, bisogna anche tenere conto che oltre agli elite, ovvero i veterani della Pugilistica, a questo elenco mancano le numerose atlete in forza alla squadra lucchese. Il basket con la Serie C femminile, un Porcari da stropicciarsi gli occhi, ha dominato 61-41 la capolista Viareggio che si è rappresentata al palasuore imbattuta. Ma stavolta sulla sua strada la formazione viareggina ha trovato una formazione solida, grintosa e determinata. Due punti importanti che avvicinano Porcari all'obiettivo playoff. Felice, coach Francesca Salvioni che dice che questa squadra deve capire che prove come quella contro il Viareggio devono essere la normalità e non l'eccezione. Intanto nel hockey il Forte De Marmi si prepara alla partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Viste le partite ravvicinate dell'Hockey Forte De Marmi, la gara relativa al quarto di finale di Coppa Italia con il Montebello è stata posticipata giovedì sera al palaforte. Una curiosità è che i Veneti saranno ospiti domenica pomeriggio alle 18 per il turno di campionato. Con il Presidente Piero Tosi, il nostro ospite a Versilia Hockey, abbiamo analizzato gli impegni dei Rosso Blu ed ha anticipato la possibilità da parte del Comune di realizzare accanto al palazzetto dello sporto una pista di pattinaggio. Abbiamo delle limitazioni che sono quelle delle disponibilità di impianti. Ci auguriamo che il Comune dia seguito alle promesse fatte a suo tempo in campagna elettorale. Mi sembra che siano cominciati già l'iter per l'esproprio di un terreno accanto al palazzetto dove dovrebbe poi sorgere una pista, ma si parla comunque di tempi lunghi e speriamo di arrivare presto a definire queste cose. Trissino e Follonica sono le prime semifinaliste di Coppa Italia di A1, rispettivamente hanno superato il Grosseto 5-3 dopo i supplementari e il Valdagno 5-1. La palla a mano, un'altra battuta d'arresto per il Monte Carlo nel campionato di Serie B, nello scontro derby con la Carrarese. La squadra montecarlese è uscita sconfitta 29-36, pesante l'assenza, la perdurante assenza del capitano Matteo Franceschini. Prossimo impegno domenica 4 febbraio in casa contro l'Olympic Massa Marittima. Nel recupero della terza giornata d'andata l'Under 17 ha incassato una sonora e roboante sconfitta contro l'Olympic Massa Marittima, formazione accreditata per la conquista del titolo regionale. Infine da segnalare il debutto delle squadre Under 9 e Under 11, che abbiamo visto anche in queste foto, nel concentramento di Poggio a Caiano. Qui possiamo dire tanto divertimento e tanti sorrisi. L'aspetto agonistico passa in secondo piano. Parliamo di nuoto con la diciottesima edizione del Trofeo Città di Lucca. Il Trofeo di Nuoto Città di Lucca diventa maggiorenne, è andata infatti in archivio un'altra bellissima edizione, la diciottesima appunto, che si è disputata nella piscina dell'Itis. Alla presenza del presidente della provincia Luca Menezini, in Vasca si sono date battaglie a 16 squadre provenienti da tutta Italia. Di spicco la presenza della diciassettenne Sara Curtis del Roero Cuneo, classe 2006, nuova grande promessa del nuoto nazionale. Il trofeo è andato al nuoto Valdinievole, davanti alla compagine Cunese e a Legnano. Bene il circolo nuoto Lucca, che ha chiuso al quinto posto collezionando sei ori, dieci argenti e nuove bronzi, per la soddisfazione degli allenatori Gabriele Marraccini e Giovanni Longo. La bella manifestazione natatoria, riservata alle categorie ragazzi, juniors, cadetti e senior, era valida anche come qualificazione ai campionati italiani giovanili, che si svolgeranno a Riccione primi di aprile. Ad oggi in casa Cennelle risulta qualificata, alla rassegna tricolore in Romagna, la sola Emma Salutì, che doppierà 100 e 200 rana. Nelle acque di casa si è piazzata seconda sui 100, mentre ha conquistato l'oro sulla distanza doppia. La Salutì, peraltro, a marzo prenderà parte anche ai campionati italiani assoluti. Ma è abbastanza evidente che la società del presidente Pietro Casali conta di portare anche altri atleti alle finali nazionali. E con il nuoto si chiude anche la pagina sportiva del Ticino e la linea adesso viene restituita alla regia per alcuni preziosi suggerimenti commerciali.